Wow! Wow! Denomination! Ehi, Maxi! Facciamo una passeggiata? Ah, devo ammettere che è piacevole! Io non voglio andare dal veterinario! Il veterinario? No! Dai, piccolo! Mi ha imbrugnato! Prima volta qui? Eh, sì! Oh, il dottor Francis è il miglior veterinario in tutto il circondario! Ti piacerà? È specializzato in disturbi del comportamento! Ma io non ho un disturbo del comportamento! Io... Sì, anch'io sto bene! È la mia umana che è matta! Insomma, non so! Le porto un uccello morto e lo butto fuori! Le porto un topo morto nella spazzatura! Non ne faccio mai una giusta per te, brutta! Ok... Io corro, e poi corro, e poi corro, e poi corro, e poi esco! E dove sono? Sempre qui! Sempre qui! Il mio padrone non fa che dire Sei un cane tanto bravo e io... Mi sento tanto bravo, ma... Se sotto sotto fossi cattivo... E se sono un cane cattivo! A noi piace incendiare? Assurdo! Oh sorella, sarà super assurdo! Sapevate che la parola anime è un'abbreviazione di animation? Cioè, traslitterazione giapponese della parola inglese animation? Nacque nel 1917 dagli artisti giapponesi Shimokawa Oten, Yunichi Kuchi e Seitaro Kitayama e il primo anime era una clip di due minuti di un samurai che prova la sua nuova spada. L'anime affronta tutti i generi, però quello sci-fi è il più popolare. Robo, metropoli post-apocalittiche e motociclette sono dei must di questa arte. Qual è il vostro film anime preferito? Scrivetemelo nei commenti qui sotto e io vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria! Ciao!